1917 in questa lettera che oggi vogliamo condividere con voi padre pio racconta la permanenza qui a san giovanino tondo ricordiamo che qui a san giovanino tondo da qualche mese siamo nel 1917 padre pio scrive a don pietro ricci un sacerdote di rignano garganico proprio qualche chilometro da san giovanino tondo ritornando ieri sera dopo un lungo mese di assenza per ragioni del servizio militare trovo la vostra lettera assieme ad altre mi affretto perciò a darvi sollecito riscontro non ho mancato mai da che ebbi la fortuna di conoscervi di sempre raccomandarvi al buon dio nelle mie povere sì ma pure assidue preghiere scrive padre pio a don pietro la mia dimora è stata fissata qui da provinciale quindi qui ci troviamo a san giovanino tondo perché ha conosciuto che questo clima è di giovamento per il mio stato fisico quindi fateci qualche sorpresa quando il signore ci regalerà qualche bella giornata venitemi a trovare e qui tutti vi ricordiamo con tanto e grande affetto